Avrebbe potuto avere conseguenze tragiche l'incidente verificatosi tra sabato e domenica lungo l'A2 del Mediterraneo, ex Salerno-Reggio Calabria, intorno alla mezzanotte. Un ventenne di potenza si è schiantato con la sua auto, mentre transitrava tra gli svincoli di Petina e Siciniano degli Alburni, contro un guardrail, distruggendo la parte anteriore dell'auto, una Lancia Ypsilon. Dagli esami effettuati dopo l'incidente sul giovane trasportato a Luigi Curto di Polla, è emerso che il ragazzo aveva un tasso alcolemico almeno 4 volte superiore a quanto previsto dalla legge. Nel sinistro non è rimasta coinvolta nessun'altra vettura, ma le conseguenze per il ventenne potentino, vista la dinamica dell'incidente, potevano essere ben più gravi. Fortunatamente il giovane se la caverà con qualche giorno di riposo necessario per le ferite di lievi entità riportate. Sul posto immediato è stato l'intervento di una pattuglia della Polizia Stradale del distaccamento di Sala Consilina, con gli agenti sul posto anche un'ambulanza del 118 ed una squadra di tecnici dell'ANAS. I poliziotti hanno provveduto ad effettuare tutti i rilevi del caso e controllare il traffico veicolare, diminuendo al minimo i disagi e il traffico. Il ventenne è stato denunciato, gli è stata sequestrata l'automobile e ritirata la patente di guida.